Presentato a Palazzo Lascaris, il progetto No F 2014, promosso dalla consulta delle lette del Piemonte, in collaborazione con l'Associazione Culturale Liberi Pensatori Paul Valery, in occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne. Il progetto prevede la rappresentazione tra il 25 e il 28 novembre a Torino, Alba, Domodossola, Asti, Giaveno, dello spettacolo teatrale Finché morte non ci separi, di Francesco Olivieri, regia Francesca Vettori. Sono agghiaccianti i numeri legati alla violenza nei confronti delle donne, non soltanto delle donne, spessissimo anche delle bambine. Il messaggio forte e chiaro che arriva da questa iniziativa è quello di un grande rispetto nei confronti della figura umana, ma in questo caso in particolar modo nei confronti della figura femminile. I segni delle violenze sono segni indelebili, sono segni che accompagnano la vita delle donne e in questo senso credo che l'iniziativa ben si rispecchi.